Stringerci, avviamo verso la fine di questo diciassettesimo grido canterino, dobbiamo correre, ma intanto rilassiamoci con la voce di Tina Andrei. Ci fai ascoltare Tina? A gentilissima richiesta di tutto il pubblico toscano, una fantasia dal mio repertorio e due stornellacci toscani. Sempre accompagnati dalla PF, la voce di Tina Andrei e poi Tina vorrei dare anche a te dei fiori della nostra Leda Ferri che è infierata così bene il palcoscenico. Mentre l'orchestra sta per partire non ci dimentichiamo dei collan offerti sempre da Giuliano Golini alle mie due stupende collaboratrici. Giuliano è un nostro amico, Ugo Golini, un amico di Ponta Ilza, tornato al grillo cantarino. Sei pronta? Vorrei dire grazie, scusami, so che anche un tuo amico è venuto a trovarci alla cristalluce di Bruno Corzini e in Polio Ortimino perché è colui che così ci ha fornito tutta l'attrezzatura per la donna spiridonia. Quindi grazie a Bruno che è con noi questa sera. Scusami Tina, grazie a Bruno, scusa Tina puoi andare, grazie. No, non è la gelosia, ma è la passione mia. Quando ti guardano le lettere, io tremo perché le tue carezze le voglio soltanto per me. No, non è la gelosia, so che tu sei sempre mio. Quando mi guardi negli occhi io tremo perché, ma non temere non sono gelosa di te. O, non è la gelosia, ma non è la gelosia, ma non è la gelosia. Una notte abbraccia.